buonasera buonasera buongiorno sera dipende che ora guardate sto qui comunque salve a tutti benvenuti a una puntata in angolo del lupo voti aspettativa di roadblock end of the line devo essere sincero sono stato molto tentato dal saltarlo questa questa puntata sono stato molto tentato perché di fatto questo pay per view buf fa più di incidenti di percorso che di che di pay per view c'è sembra un per primo messo con lì messo un po così molto di transizione un pay per view un po di quelli che passano arrivano passano se ne vanno e nessuno le sente la mancanza ecco già l'impressione dall'inizio è questa una cosa che è lì si deve fare lo fanno la costruzione per carità non è stata brutta ma mi dà sempre quella sensazione di incidente di percorso questo per il pay per view è per più che più che più che un più che una appunto più che un roadblock mi ricordo in italia è una cosa che vuol dire comunque l'app sembra più un incidente di percorso sono stato tentato perché comunque questo per più c'è veramente poco da dire per più che poco conterà e poco poco lascerà se non addirittura nulla comunque andiamo match per match che tra l'altro sono pure pochi trascendo il match del pre show che come già sapete non seguo e quindi e mi rifiuto di seguire andiamo al primo match zain contro bronz stroman semi zain contro bronz stroman il mio voto aspettativa è un senza voto nel senso che non mi aspetto neanche che sia un match probabilmente farò un angle di uno zain che alla fine riuscirà a resistere dieci minuti senza essere sconfitto o perlomeno senza essere schienato o sottomesso insomma senza essere sconfitto che quindi a suo modo vincerà perché resisterà questi dieci minuti che però sarà combinato talmente male che loro lo dovranno raccogliere con un cucchiaino io penso sarà un angle probabilmente più un angle che un match detto questo il mio voto aspettativa è un senza voto perché non sarà un match poi match per i titoli cruiser triple threat swan tj perkins e di brian kendrick anche qua mi ha dato l'impressione di essere stato fatto un po così fretta e furia cioè ok swan chi ci mettiamo e vabbè facciamo perkins e brian e kendrick va to vai cioè mi ha dato questa sensazione molto probabilmente swan manterrà il titolo è possibile che il match sia anche buono però non lo so sembra essere messo su molto così a come capita non mi lascia molto attesa il match potrebbe anche essere buono anche se per ora i cruiser west non hanno fatto vedere chissà quale grandi cose saltanti comunque il voto ho un'aspettativa un 6 semplice 6 andiamo al match per il titolo femminile match per il titolo femminile ancora una volta charlotte contro sasha banks ora per carità considerate anche la stipulazione che comunque è iron man match 30 minuti col continuano che è una situazione speciale potrebbe venire fuori un buon match e quindi potrebbe essere alta un voto aspettativa l'aspettativa di questo match tutto questo se non ci fossero stati altri 5-6 match titolati in ultimi mesi con altrettanti cambi di titolo se non ci fosse stato l'elindes al femminile se 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 insomma la sensazione è che con questa rivalità abbiano l'abbiano abbiano tirato un po' troppo la corda diciamo l'abbiano un po' tirata troppo per le lunghe motivo per cui il mio voto aspettativa comunque l'aspettativa del match è sempre sul 6 è il 6 nulla di più anche se probabilmente verrà fuori un bel match ma capito ci sono scontrati talmente tante volte che direi e mo basta ecco insomma per fortuna è stato annunciato che non ci sarà in ogni caso clausola di rematch insomma questo sarà l'ultimo ok poi vedremo cosa ci aspetterà futuro in modo aspettativa anche qua 6 Jericho contro Rollins di per sé sembra un match messo molto cazzo che non serve a nulla visto anche tutta la situazione ma è da da mettere un quadro un po' più ampio assieme a quello che sarà il main event allora l'aspettativa sarà molto un po' più basse del solito rispetto a quelle che potrebbero fare i due cioè sul 6 così ma per un solo motivo penso che questo match alla fine della WWE servirà più che altro come setup per il main event spiego meglio in questo match vedremo un ulteriore tipo inasprimento dei rapporti tra Jericho e Owens secondo me è la mia sensazione salvo poi vedere Jericho che aiuta Owens a battere Reigns e ritornano a essere amici almeno per ora questa è la mia sensazione invece potrebbe essere anche bello però bello per carità però ripeto probabilmente sarà un po' sacrificato ho questa sensazione che possa essere sacrificato in virtù di una costruzione un po' più ampia di un setup in funzione del main event motivo per cui il mio voto aspettativa è un 6 non di più anche se i due sono due lottatori molto validi e boh mi ripeto questo sarà un po' sacrificato per il main event main event al quale do anch'esso 6 solo per un motivo Kevin Owens 6 con molta aspettativa intendo avremo di nuovo Reigns Owens match che abbiamo visto più volte a Raw che poco interessa Reigns ha i limiti che c'ha il pubblico continua a non seguirlo neanche per neanche per un cazzo non continua a non ti farlo neanche per un cazzo continua la battaglia persa in partenza della WWE per fortuna c'è Owens che dovrebbe far salire un po' livello per lo meno la sufficienza vedremo come va è ovvio che probabilmente manterrà il titolo Owens però più del 6 come voto aspettativo non riesco a dargli voto aspettativo il pay per view insomma anche la 6 dovrebbe essere magari mediamente mediamente solido da un punto di vista lottato ma diciamo non 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 c'è la trepidante attesa per questo per questo pay per view per vedere cosa succede anche perché probabilmente non succederà nulla di rilevante ecco neanche per un pay per view che passa così arriva passa e se ne va probabilmente roadblock sarà questo detto questo vi do appuntamento al post show sempre di roadblock end of the line per la prossima settimana detto questo saluto a tutti quanti voi e la prossima